La ragazza del treno di Paula Hawkins Questo è un romanzo che divide in due i lettori. C'è chi l'ha amato tantissimo e c'è chi l'ha odiato tantissimo e non si è saputo proprio spiegare il motivo del successo di questo romanzo. Io l'ho letto ormai quasi un anno fa, ho una mia personale interpretazione sul perché il romanzo funzioni molto e sul perché abbia venduto milioni di copie, sul perché adesso abbiano fatto un film ispirato al romanzo di Paula Hawkins. La Hawkins ha utilizzato una tecnica narrativa molto originale che non so se tutti i lettori che hanno potuto godere del suo romanzo hanno scorto tra le pagine, ma che io ho individuato fin da subito e ho capito fin da subito il gioco che ha fatto l'autrice. La protagonista del romanzo è un'ubriacona che soffre di frequenti amnesie a causa del suo vizio di bere. Quindi che cosa ha fatto Paula Hawkins? Non ha fatto altro che trasporre sulla carta il funzionamento della mente di questa ragazza che è persa, che è un'ubriacona, quindi ha dei momenti di volto assoluto, dei momenti in cui le cose le vede molto in maniera nebbiosa, i momenti in cui è stranamente lucida perché non ha ancora iniziato a bere seriamente. Quindi lei ha giocato tutto il romanzo su queste sensazioni di questa ragazza diversa dal solito, cioè una ragazza, una protagonista comunque imperfetta, una protagonista alcolizzata. Come si fa a rendere sulla carta il pensiero di una protagonista alcolizzata? Intrecciando la storia e non continua a alternarsi di flashback, ricordi spezzati, un pezzetto di memoria che si riattiva, un'immagine sfocata di quello che la protagonista ha visto, forse non ha visto, che forse è solo nella sua testa, mescolati poi a delle azioni normalissime, quotidiane, cioè come quella di svegliarsi la mattina, prendere un treno per andare a lavorare. La generalità dell'autrice sta in questo, ha preso questa decisione in maniera molto ponderata, secondo me, e non ha fatto altro che cercare in tutti i modi di trasporre sulla carta la mente poco razionale di una ragazza con un vizio. Cosa ha fatto secondo me Paula Hawkins? Lei non ha fatto altro che scegliere la sua protagonista, quindi è partita dal personaggio, probabilmente ce l'aveva nella mente già questo personaggio, l'ha costruito, l'ha pensato, ha creato una protagonista imperfetta, che ha un conflitto grosso, che è il vizio del bere, e grazie a questo conflitto lei ha pensato poi tutta la storia e tutto l'intreccio del romanzo, piccicando al vizio del bere ogni singola azione del romanzo, perché di per sé il romanzo non ha una trama molto complessa, ma è complesso nel modo in cui viene narrato al lettore, attraverso questi frequenti flashback e amnesie della protagonista. Ti consiglio di leggere questo romanzo se sei alla ricerca di nuovi modi per far risaltare il protagonista della tua storia. Ti consiglio di leggere questo romanzo se sei alla ricerca di nuovi modi per far risaltare il romanzo,